Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conversazione intitolata Scambio culturale tra Italia e mondo arabo, la parola ai traduttori. Riprendiamo una conversazione molto simile che si è tenuta lo scorso 5 novembre nel padiglione italiano alla Fiera del Libro di Shagja. Merhaban benvenuti in questa conversazione per la lingizia e la lingua del sitarato del sitarato e lingua. Quattro di spazio culturale rivista e linguistica di ricerca del sitarato per il 5 novembre del sitarato. I nostri ospiti parlano da Roma e sono la professoressa Isabella Camarada Fritto e il professore Zeddin Anaia, entrambi dell'Università La Sapienza e entrambi i nostri traduttori. I nostri ospiti parlano da Roma e sono la professoressa Isabella Camarada Fritto e il professore Zeddin Anaia e il professore Zeddin Anaia e il professore Zeddin Anaia. e alla promozione della lingua e della letteratura araba. Tra le altre cose Isabella è stata tra i primissimi studiosi a occuparsi di letteratura emiratina, penso in particolare a Perle degli Emirati con Maria Avino pubblicata a Roma nel 2008 dall'editore Jones. Non si contano davvero i molti riconoscimenti al suo lavoro come studiosa e anche come traduttrice. Vorrei ricordare almeno la sua partecipazione alla giuria internazionale dei premi alla traduzione del Ministero dei Beni e delle attività culturali. Nel mondo arabo e in particolare negli Emirati Arabi Uniti è membro della giuria dell'International Prize for Arabic Fiction promosso dal Department of Culture and Tourism di Abu Dhabi con serie a Londra e anche della giuria dello Sharjah Translation Award for Juman promossa appunto dalla Sharjah International Book Fair. Isabella, da molti anni ti dedichi alla traduzione dall'arabo all'italiano privilegiando la narrativa contemporanea che la generazione precedente degli arabisti italiani ed europei aveva ignorato quasi del tutto. Vuoi offrirci una panoramica generale sulle traduzioni dall'arabo in Italia e cos'è cambiato negli ultimi decenni? Ancora una piccola cosa, perché secondo te oggi privilegiamo nuovi temi, nuovi autori e nuove aree geografiche? Allora, prima di tutto io vorrei ringraziare l'Istituto Culturale di Abu Dhabi e la nostra carissima direttrice, nostra collega e amica, vorrei dirlo anche in arabo, e ora vorrei continuare a rispondere alla mia domanda in italiano e vorrei dire forse qualcosa che ho già detto tante volte, nelle mie interviste, perché io appena ho terminato gli studi ho cominciato a leggere dei libri di letteratura araba, che mi sembrava la cosa più normale del mondo, laurearsi in una lingua e leggere, sicuramente avevamo studiato la letteratura classica all'università, ma anche interessavano della letteratura contemporanea. La mia meraviglia è stata quella, parlo degli anni 70 e quindi tantissimi anni fa, di non trovare nessun libro o quasi nessun libro tradotto né in italiano né in altre lingue straniere. E questo mi ha spinto a provare, a cercare editori per pubblicare la narrativa araba in italiano, e ho cominciato con degli autori palestinesi come Hassan Canafani, poi con Emil Habibi, dei grandi scrittori palestinesi, perché era anche un'occasione a quell'epoca di far conoscere un problema, un problema che stava fuori non solo agli arabi, ma anche a noi, a noi del Mediterraneo, a noi europei. Era un modo anche di far conoscere un'altra faccia della storia, non solo la storia che ci veniva propinata e che conoscevamo attraverso i nostri giornali, le nostre emissioni, ma anche attraverso la loro pubblicazione. E questo però fu una grande avventura, molto difficile all'epoca, trovare case editrici, bisognava convincere, ripregarli, supplicarli, affinché pubblicassero questi libri. E la svolta c'è stata con il premio Nobel di Mark Fus. Infatti, quando io ho incontrato il maestro Mark Fus, proprio agli ultimi anni della sua vita, mi ricordo appunto che lo incontrai dove lui riceveva gli ospiti stranieri, in quel Farah Bot, quella vacca di vita a caffè sul Nilo. E io, quando l'ho incontrato, gli dissi, maestro, ma tu lo sai che la tua fortuna è stata la mia fortuna. Se tu non avessi vinto il premio Nobel, io non avrei mai tradotto e non sarei qui oggi, e tanti di noi non sarebbero qui oggi. Quindi è stato veramente il motivo, forse senza di lui, oggi non staremo a parlare di letteratura araba. Poi l'altro elemento fondamentale, molto più recente, perché qualcosa che è successo dopo il 2000, diciamo, è questo interesse di molti paesi arabi, soprattutto del Golfo, a moltissimo, quindi anche degli Emirati, nel promuovere e diffondere la letteratura araba, non soltanto attraverso i premi, perché i premi, naturalmente i premi sono un'attrattiva per gli autori e sono anche un'attrattiva per i traduttori, ma attraverso l'incoraggiamento, che premia agli editori un incoraggiamento a pubblicare e a tradurre libri all'estero. E per una volta ci si è anche interessati non soltanto delle traduzioni inglesi, perché sembrava che a un certo punto la letteratura araba, l'unico risvolto che potesse avere in Europa o nell'Occidente, fosse la letteratura nella lingua inglese. Invece si è capito che era importante tradurre in tutte le lingue e anche in italiano, che non è una lingua inglese e che quindi è giusto conoscere la letteratura araba anche in Italia. Poi le cose sono cambiate, piano piano poi le cose sono cambiate, negli anni 90 sono riuscita a convincere un altro editorio, appunto l'editore Jovans, ad avere una, a creare una collana dedicata al mondo arabo, alla narrativa arabo che si chiama Kitab Arab Amu Asirun. E in questa collana, in quasi 20 anni di attività, fino alla morte del proprietario, della casa editrice, Alessandro Gallo, che amo più ricordare, perché veramente è stato un mecenate e prima, senza di lui, probabilmente molti questi libri di autori arabe non si sarebbero conosciuti. E a quell'epoca non c'erano premi, non c'erano incoraggiamenti, quindi era veramente una persona che pubblicava i libri con interesse e con quella, come dire, quella positività proprio di una persona, curiosità di una persona che vuol conoscere altri mondi, che vuol far conoscere, vuol trasmettere alla cultura degli altri. In quella collana, appunto, Kitab Arab Amu Asirun, abbiamo pubblicato oltre 50 romanzi, quasi tutti i romanzi, qualche raccolta di racconti, anche qualche libro di più di cultura, sugli autori arabi contemporanei. E questo ne vado ancora molto fiera, devo dire, considero un bel successo della mia vita, anche perché è stato un modo di far avvicinare gli italiani alla letteratura araba. Grazie, 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 Grazie a tutti. 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 Non ci si può limitare a far conoscere soltanto gli autori anche di oggi, ma è tutto un mondo che ancora c'è, è ignota. D'altra parte loro conoscono, gli arabi conoscono Dante Alighieri, conoscono Leopardi, conoscono Pirandello, conoscono le nostre opere, perché c'è stato un movimento di traduzione che è partito già all'inizio del 1900, grazie a molti arabisti, soprattutto egiziani, anche libici, ma molti egiziani. E oggi invece noi non abbiamo fatto altrettanto, noi per anni abbiamo solo forse pubblicato articoli sulle nostre riviste accademiche, ma più per fare la carriera universitaria dei professori, che non per, veramente per diffondere questa cultura, che io più la conosco più mi sembra immensa. E più mi dispiace di avere una vita sola, perché non basta naturalmente per conoscere e per leggere tutto quello che vorrei leggere, e mi sembra sempre di partire da zero e non sapere mai nulla, perché è veramente immensa. Sì, comunque sono molto contenta di aver ascoltato, ma anche di, che tu abbia parlato delle difficoltà tecniche per un traduttore. Sì, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 o meno di un'interiore oroziliatiche ma anche di un'economia o di un'economia o di un'economia o di un'economia, non è possibile che si mangiunge i consigliamenti, è possibile che si risella l'economia, e questo è quello che si tratta di attraverso il quattro e il quattro di attraverso il quattro di attraverso il quattro di attraverso il quattro. può dire che è la sessione un com identity che vogcia fr况 di attraverso il quattro di attraverso il quattro. una significazione della norma ad ora anche una nazione di due amare una nazione ma è una nazione di un'accomandamento con la lingua anità ma ma c'è una c'è un'accomandante nega che si stavole in alcune amare ma ma il il Bessie Quando si scrive il cattore del carico In la lingua italiana Non è un'agra Il cattore Il cattore O che non è un'agra Non è un'agra Non è un'agra Non si cattore Quindi Il cattore Non è un'agra Come ho detto Con le carico In la lingua italiana Non si tratterebbe Un'agra Per il cattore Il cattore Il cattore Un'agra Non è un'agra Il cattore 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 per l'italia 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 ancora per esempio l'italia un'italia 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 per l'italia ma l'italia un'italia e anche l'italia che ha chiamato il'italia l'italia che ha chiamato l'italia l'italia questo è necessario per l'italia per l'italia per l'italia l'italia non grazie a tutti e l'amore di un gioco in un gioco in un gioco come io faccio il gioco a la ricerca della ricerca e la ricerca del sosiologico questo è il gioco che mi senti che mi senti nemmeno in questo rischio non è un gioco non è un gioco il gioco il gioco il gioco questo non è vero la bulla minata khassus pergama atta non tij kutub qayima wajadira di affakata albina grazie aizidin anaya per questo questo bel intervento in arabo ci tengo a dire al nostro pubblico che aizidin parla anche un ottimo italiano così come aizabella parla un ottimo arabo e ora vorrei appunto ringraziare tutti ringraziare i nostri ospiti il pubblico che ci ha seguito Shukran Shazila Nel Shamer Ilalekah Ilalekah in Arifin arrivederci a tutti arrivederci a presto grazie ciao grazie ciao grazie a tutti grazie